Ciao a tutti! Tre modi in cui gli uomini testano le donne, come conquistarlo. In questo video ti insegno a capire quali sono i test che gli uomini fanno quando incontrano una donna, come rispondere a questi test e come conquistarlo. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo che sul mio canale Felicità Benessere farò un seminario online sulla legge d'attrazione martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23.00. Per partecipare devi andare sulla home page del canale Felicità Benessere, trovi il link nell'info box e cliccare sul tastino abbonati che sta vicino al tastino iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare vai col computer, clicchi sul tastino abbonati e poi selezioni l'abbonamento seminario online. Il seminario sarà martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23.00 in diretta, ma poi rimarrà un mese per cui avrai tutto il tempo per vederlo e rivederlo e stai vederlo. Adesso vediamo a questi test che gli uomini fanno per testare le donne, per vedere quanto potenziale hanno, per vedere come possono trattarle, per vedere che cosa possono ottenere senza spendere energie. I test che gli uomini fanno sono fatti prevalentemente per abbattere il tuo valore, per toglierti potere, toglierti valore. Quindi, in generale, il consiglio che ti do è mantenere un alto standard, un'alta qualità della considerazione che tu hai per te stessa, un alto standard, un'alta qualità del tuo valore, un alto standard e un'alta qualità della tua autostima. Questo è fondamentale. Ma veniamo quindi a come gli uomini testano le donne, quali sono i test che fanno, proprio per vedere, insomma, come, fin dove possono arrivare fondamentalmente. Questo è una cosa tipica degli uomini. E sono test specifici, diversi da quelli che fanno le donne. Poi farò un altro video sui test che fanno le donne. Allora, il primo test, potremmo definirlo test di attrazione. Cioè, un uomo prova quanto rapidamente, cerca a testare quanto rapidamente, riesce a portarti a letto. Il che ti può mettere anche in situazioni di doppio legame, perché se tu vai a letto troppo rapidamente, potrebbe innescare meccanismi di squalifica nei tuoi confronti. Questo devi tenerlo presente. Ma, d'altra parte, se lui genera molta attrazione, sarà facile che tu ci caschi. Per cui, su questo devi stare attenta. Devi stare attenta soprattutto con gli uomini per i quali provi maggiore attrazione. Come viene fatto questo test? Ma, normalmente viene fatto con quella che si chiama Kino Escalation, cioè un escalation non verbale. Contatti, toccamenti, abbracci, baci, insomma, andando sempre in zone più intime per generare attrazione, per vedere quanto tempo impieghi tu a, tra virgolette, ad essere attratta e a coinvolgerti e a lasciarti andare. Allora, tieni presente che questo test, che gli uomini fanno sempre, cioè ci provano sempre, devi vedere che cosa vuoi. Cioè, allora, se a te interessa una notte di musica e magia, allora va bene, diciamo, lasciarsi andare. Se il tuo obiettivo è quello di crearti una relazione più stabile, una relazione sentimentale più stabile, allora forse varrebbe la pena di prendere un po' più di tempo. E come puoi reagire a questo test? Beh, semplicemente bloccando la sua Kino Escalation, non lasciandoti andare fisicamente, non lasciandoti andare all'attrazione che provi per lui. Questo test ha qualche variante se la relazione è già iniziata, cioè nell'ambito di una relazione già iniziata, lui testa quanto pochi investimento può fare nei tuoi confronti. Quindi, ad esempio, venire direttamente a casa tua, che ne so, a luna di notte e andarsene via alle tre, fondamentalmente. Per questo è per fare un esempio. Ecco, quindi se la relazione è già iniziata e lui sta già prendendo questo giro di venire da te, diciamo, oppure tu andare da lui e poi, ma soltanto per un fattore donistico, allora devi tenere presente che devi chiudere necessariamente la relazione, devi chiudere necessariamente la relazione o cambiare registro, insomma, non accettare più quello che accettavi prima. Questo è importante. Quindi in questo caso, in questo secondo caso, è importante fare un po' di no contact per dare un'interruzione per risettare. Quindi questo test di attrazione viene fatto, quindi, in due situazioni, in una relazione nuova, una nuova conoscenza, e invece anche in una relazione già avviata. Nella relazione nuova devi rispondere, come dicevo, bloccando la keen escalation. Nella relazione già avviata devi stoppare la relazione con il no contact per poi riprenderla in modo diverso, perché devi dare un taglio alla continuità di questo suo modo di fare. Se già hai sbagliato e hai accettato situazioni per te non positive, insomma, perché altrimenti rischi che la relazione resti soltanto una relazione di natura donistica e basta. Poi abbiamo il secondo test. Il secondo test è il test del sarcasmo. Cioè, come si svolge questo test? Beh, l'uomo in questo caso ti fa delle critiche, ti fa dei commenti acidi programmati, ti tende a, diciamo, a farti delle critiche fondamentalmente, no? A criticare ma come ti vesti, ma guarda come sei vestita, ma guarda come ti conci. Insomma, ecco, se tu accetti, diciamo, e magari con sancasmo perché? Perché lo fa con ironia. Cioè, fa delle battute ironiche, ma che sono battute abbastanza pesanti. E anche una tattica di seduzione. Ah, che bel naso che hai! Sembra quello di Egizio di Nefertari, per dire, no? O sembra quello, non so, un nasone, no? Giocando, scherzando, sono battute sarcastiche che però possono lasciare il segno. Se tu le accetti passivamente, magari ci ribi sopra, beh, diciamo, lui capisce che ha un potenziale molto elevato nei tuoi confronti. Quindi il modo migliore è, in questo caso, controbattere senza prendersela, ma rispondendo sullo stesso piano. Magari chiamandolo pisellino, magari chiamandolo con dei diminutivi. E ti dice, ma perché usi questo diminutivo? Eh, beh, insomma, gli fa intendere che tu lo prendi in giro, perché un punto debole del maschio è proprio quello, di non essere sufficientemente, diciamo, all'altezza da quel punto di vista. Per cui lì puoi andare a colpire in quella situazione e ci azzecchi sempre. E poi il terzo test è il test di considerazione, cioè ti dà poca considerazione. Ti dà poca considerazione e quindi non prende in considerazione quello che dici, le cose che dici tu, manco le sta a sentire. e vede quello che tu accetti, quello che tu fai passare. Anche qua, se vuoi coinvolgere, non devi far passare niente. Cioè lo tratti nello stesso modo. Cioè tu, sulla considerazione, devi usare una... devi diventare specchio. Gli dai esattamente la stessa considerazione che lui dà a te, né di più né di meno. Questo è l'unico modo, perché se tu gli dai un sacco di considerazione e lui continua a non dartene, beh, e tu accetti questo test, sarai coinvolta sempre di più senza neanche rendertene conto. Cioè senza neanche renderti conto che ti stai coinvolgendo e oltre tutto sarai pure mazziata. Non soltanto cornuta, tra virgolette, perché andrai a gratificare il carnefice. Questo si verifica, è un po' la sindrome di Stoccolma, no? Si verifica purtroppo quando una persona, come dire, si innamora, tra virgolette, del suo carnefice, no? È tipica questa, però dipende da che cosa? Dipende dal fatto che tu accetti di stare in una situazione che non dovresti accettare. Quindi anche in questo caso, se questa persona ti dà poco, non ti dà considerazione, non ti valorizza, insomma ti tratti in questo modo, occhio, 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 perché se tu accetti la situazione si innesca questo meccanismo chiamato sindrome di Stoccolma per cui ti coinvolgerai ancora di più. E la sindrome di Stoccolma non si manifesta solo in casi eclatanti in cui, che ne so, succede chissà che cosa, ma si manifesta anche in piccole cose nella vita quotidiana. Quindi è molto importante per te riuscire a rispondere e dargli esattamente la stessa considerazione che lui dà a te. Niente di più e niente di meno. Bene, lascia scritto nei commenti qua cosa ne pensi, se questi test, se sei stata sottoposta mai a questi test, come hai risposto, che tipo di reazione hai avuto. Lascia un tuo commento, fai una domanda, in modo da dare un contributo, diciamo, a tutta la community. E poi ti ricordo di iscriverti al canale, seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo il seminario online sul canale Felicità e Benessere, seminario online sulla legge d'attrazione che si terrà a martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23. Per partecipare devi andare sull'home page del canale Felicità e Benessere, cliccare sul tastino Abbonati e selezionare l'abbonamento Seminario online. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!